si ci sono andato quando c'erano quelle ci mangiavo pure quella signora coi figli era ma parliamo sempre di vent'anni fa almeno il vent'anni signora ci racconta la storia di questa casa qui a fianco io vi racconto perché noi siamo nati qua in questo quartiere perciò ci conosciamo tutte e quelle ragazze che è padrone di quella casa ora hanno la nostra età se ne sono andate da ragazze ma è sempre stata disabitata sì sì ma l'ha affettato questa mamma con due figlie grande la signora poi sono morte tutte io non ci ho visto più a nessuno da quanto tempo circa dall'ultima volta che è stata circa vent'anni che quelle non abitano più là e non ci ho visto mai nessuno se poi l'hanno affettato qualcuno ma io non lo so quindi da almeno vent'anni è disabitata la casa mentre prima è stata affittata queste signore che abitavano tutta la famiglia la mamma con due figlie grande cosa ne pensa del fatto che probabilmente qui a fianco a lei si sono rimasta destucca non ho visto mai questa queste porte aperte mai quindi probabilmente non c'era nessuno per noi non c'era nessuno perché non abbiamo visto mai a nessuno se poi era affettato a qualcuno che magari venivano a dormire o stare così e poi andavano a lavorare questo non lo so perché non ci ho visto mai ma lei c'è entrata mai dentro questa casa sì ci sono andato quando c'erano quelle ci mangiavo pure quella signora con i figli era la mamma ma parliamo sempre di vent'anni fa almeno il vent'anni grazie